Ma io sono rimasto con gli amici, le persone a festeggiare più o meno fino alle due e mezza così. Poi sono andato a casa a dormire con mia moglie e le mie bimbe e niente. Poi mi sono alzato e sono venuto giù perché comunque mi sembrava giusto rispetto al lavoro vostro essere disponibile e rispetto alle persone che ci hanno votato dire che la mia faccia c'è sempre, la faccia del movimento c'è sempre e poi andrò a lavorare. A proposito di movimento che c'è sempre e la faccia, ricordiamo che la prima, proprio appena è sceso nella battaglia per quello che riguarda la candidatura a sindaco, Paolo Putti, la prima trasmissione in cui è stato ospite è stato proprio Social TV, questo ti ha portato fortuna. Sì, è stato piacevole anche perché noi abbiamo un rapporto particolare, io forse un po' meno perché sono un po' desueto in questo ma gli altri del movimento sicuramente hanno un rapporto particolare con la rete e con le possibilità che dà e voi comunque avete una trasmissione che a questo dà spazio e inizia a curiosare e a voler capire, quindi mi sembra assolutamente interessante. A proposito di rete, Beppe Grillo è impazzito, continuava a postare un messaggio dopo l'altro, grande successo del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, Genova è in linea con la nazione circa il 13-14%, l'hai sentito Beppe Grillo? No, non ci siamo ancora sentiti, mi fa piacere che fosse lì presente eccetera perché vuol dire che davvero è uno come sono io, uno come tanti che ci mette in gioco anche le emozioni e quindi ci sta il twittare, il mandare messaggi, il seguire appassionatamente e questa secondo me è la differenza grossa che noi abbiamo, che siamo persone vere e che mettiamo in gioco tutto per costruire un bene comune. Paolo Putti, soprattutto i vecchi della politica se così li possiamo definire, insomma chi ha fatto politica da tanti anni continuano a definire anche a livello nazionale il voto al Movimento 5 Stelle antipolitica, ma è antipolitica o è un modo nuovo di fare politica? No, io credo che assolutamente l'antipolitica sia quella che hanno fatto i partiti in questi anni all'interno delle istituzioni, cioè chi usa la politica, cioè il ruolo che gli viene assegnato dal voto per non portare avanti gli interessi e il bene comune dei cittadini, è lui che fa antipolitica, ma questo sarebbe già nel nome stesso e tutti possono vederlo. Poi è chiaro che fa comodo definire perché le definizioni servono più a chi definisce che a quelli a cui sono definiti e quindi conviene dire così per creare un po' di tensione, creare un po' di timore e quindi prevenire il fatto che qualche di un altro, magari qualche persona più moderata, possa seguire anche lui quella strada. Ma ormai li conosciamo benissimo questi giochetti e credo che pian piano anche i cittadini iniziano a conoscerli. Un'ultima domanda, come giudica il fatto Paolo Putti, candidato sindaco e che comunque siederà in comune a Genova tra i consiglieri comunali, come giudica il fatto che con 32.000 preferenze espresse per il movimento il capolista, cioè quello che ha ottenuto più voti, ne ha ottenuti soltanto 100-150? Ma perché da noi davvero si dice che uno vale uno e che la persona, che va bene un po' ognuno di noi, perché questo è il messaggio che diamo, cioè che in realtà l'importante è il gruppo, la comunità, l'insieme dei cittadini e non il singolo, perché se mettiamo in luce troppo il singolo rischia poi il singolo di avere una cosiddetta zona comfort, cioè una zona comunque anche se non di benessere economico o altro, perché noi rispetto a questo ci siamo dati delle regole, che consentono di non avere troppe ambizioni personali o di ambire a careghe o altro, però comunque ti crea una zona di conoscenza, che poi rischia di essere troppo attrattiva, allora è meglio che si porti avanti più la comunità e il bene comune rispetto alla persona, così vale per me, se non vado bene io avanti un altro. Il Movimento 5 Stelle è il secondo partito di Genova, quindi avrete una rappresentanza importante in consiglio comunale, che tipo di opposizione farete? Ma noi faremo un'opposizione con obiettivo il bene della città e dei cittadini, quindi se la maggioranza porterà delle proposte che vanno in questa direzione, le appoggeremo, se l'opposizione porterà delle proposte che vanno in questa posizione, le appoggeremo, viceversa chiunque due e due portasse delle altre posizioni che sono evidentemente a beneficio di pochi, come sempre stato in questa città, noi faremo un'opposizione durissima. E finalmente la famiglia adesso avrà Paolo Putti per più tempo a casa? Io spero proprio, lo spero anche per godermene, perché è una bimba di cinque mesi, che è nata proprio all'inizio della campagna e quindi ho bisogno proprio di goderla, di abbracciarla, di tenerla in braccia.